In A1 ci sono code tra Calenzano e il video per la variante di Valico in direzione Bologna, sulla FITILI traffico rallentato tra Scandicci e l'allacciamento A1 Firenze-Scandicci in direzione Firenze, in A11 segnalata una perdita di carico tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze, In A12 controllo della velocità tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano-Marittimo in direzione Rosignano, su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo di Firenze-Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena, sulla statale 12 della Betone e del Brenero chiusa una corsia per lavori tra San Giuliano e la variante di Ponte Ammoriano in entrambe le direzioni, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!